Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di lunedì 3 aprile. Sono le 23.17 e c'è stata una bella discesa, ok? Dopo, peraltro, che l'accentatura era passibile di due tipologie di partenze differenti di quinto t più tre inverso, non si vede bene mai qua, ovvero con un 24 barre oppure con un 36 barre. Peraltro, se qui continueremo nel nostro viaggio ribasso, potrà essere partito, o almeno potrà partire, un nuovo t-1 inverso. Lo dico perché si è allungata tanto questa discesa, perché siamo a 15 barre su minimo 24 e quindi avremo riscontro domani dalle 6 in avanti, se da qui potremmo far partire appunto un nuovo t-1. E che cosa possiamo dedurre da questo movimento, a parte il fatto che è molto rischioso sempre fare trailing se ci possono essere due centrature corrette per le regole? Qui volevo imbastire un long dalle medie mobili, con uno stop di un certo tipo. Oggi però ho dedicato buona parte del tempo a programmare lo short su Nasdaq, vedere se con le opzioni era più fruttuoso rispetto ai soliti future, e mi è bastata mezz'ora con una persona estremamente in gamba per capire che le opzioni non sono probabilmente lo strumento più utile in questo momento. Per cui fortunatamente non sono entrato e ero perplesso proprio dal fatto che potessero esserti due centrature per una volta mi è andata finalmente bene. Si vede che questo programmare, questo cambiare, questi miglioramenti che vedrete a partire da maggio, soprattutto, 2023, e che sono stati programmati da tempo, hanno un qualche cosa che porta nella direzione corretta. Ah, tra l'altro, ho appena finito di registrare, nonostante tutto, e nonostante il fatto che sono riuscito a vedere un altro film interessante, che mi mancava, sono riuscito a registrare appunto l'analisi sul WTI, ovvero sul petrolio, un'altra delle novità che sto introducendo proprio, lo sto caricando in questo momento, per cui potreste trovare entrambi sul canale. Ma torniamo a noi, ok? Avendo avuto la fortuna, ok, di non valutare un long, quando avevo segnalato che qua potrebbe essere partito il quinto T-3 inverso, tra l'altro in una maniera molto più corretta per far partire un inverso, in maniera più fluida rispetto a qui, ma Bitcoin non ama fare dei cicli semplici da leggere, per cui dovrò andarmi a cercare costantemente i cicli meno semplici e ragionare per difetto. Ok, qui la situazione è quella che ci siamo detti, ok? Da qui è partito un nuovo T-inverso, togliamo questo bel punto di domanda che avevamo, mettiamo serenamente verde, abbiamo avuto una discesa che peraltro ci ha fatto tornare quasi a una perdita rispetto al massimo, rispetto a questa salita del 76,4% e quindi possiamo già dire che questo terzo T settimanale è un ciclo che non è più rialzista, è un ciclo neutro in questo momento, è un ciclo neutro, è un ciclo che se hai ancora spazio per andare avanti può diventare anche ribassista e noi siamo soltanto, tra virgolette, arrivati al senso T-3 su al massimo 11T-3, giusto? E quindi, che cosa di bello? E quindi, posso farvi notare che qui abbiamo anche un raccordo di grado T-5 che si trova solitamente non tra un T-3 e un T-3, ma tra un T-2 e un T-2 e quindi possiamo avere anche il settimo T-3, se avremo il settimo T-3 è molto probabile che proveremo a rimbalzare e poi continuare a scendere. Vi ho raccontato in poco tempo quali sono le aspettative. Adesso, il nostro compito qual è andare a vedere se questo minimo terrà, e siamo a 26 barre, quindi siamo sereni, che qui abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente, minima, per chiudere il settimo T-3 che può andare avanti in realtà, continuare a scendere fino alla 44esima barre in realtà, ma se invece rimarremo sopra questa barra con qualsiasi colore di candela, per almeno 5 barre e poi dovessimo iniziare a scendere di nuovo, soprattutto se fossimo mai tornati sopra questo massimo, potremmo eventualmente valutare degli short. Come mai vi racconto queste cose? Vi racconto queste cose perché ho visto qui, ok? E vedendo cosa sta succedendo, questa rapida di nuovo perdita di forza sotto questo livello, la mia domanda è, ma questo non è semplicemente il quinto T-inverso chiusosi a 8 barre di questo mensile inverso che quindi è arrivato a chiudere a 42 barre, esattamente il dubbio che vi avevo già messo in mente negli scorsi giorni, ma lo ripeto un'altra volta per sicurezza. Bene, per sapere se questa ipotesi è corretta, c'è un modo semplice per poterlo capire, una continuazione di discesa forte. Per lo meno che ci riporti sotto questo livello, sotto i 26.536. Se iniziassimo ad andare qui sotto, ecco, ricordiamoci che siamo soltanto al 24esimo giorno di un mensile che può arrivare fino a 43 giorni. Lo vedete nella leggenda sempre, mi raccomando, tenetela sempre d'occhio se non conoscete ancora le durate cicliche a memoria. E arrivare a 43 giorni, adesso è un iperbole, ci porterebbe al 22 di aprile. 22 di aprile significa tra 19 giorni. Dove si potrebbe continuare eventualmente a perdere forza. Perché adesso abbiamo tutte le condizioni sia per far partire un T più 4 da qui, 24 giorni sopra un massimo, un mensile, un mensile, lancia un ciclo superiore di 2 gradi e quindi un T più 4. E quindi, fatto la spinta a salire, adesso dobbiamo anche vedere se hanno voglia di scendere e se non c'è nessun vincolo di nessun tipo, perché troppo rapidamente abbiamo ripreso di nuovo la via della discesa, ci sono tante candele rosse. Ve lo dico in anticipo questa volta. E una discesa, sappiamo bene, con un Fibonacci dove ci può portare. Giusto? Per questo motivo, il suggerimento è non date mai nulla per scontato. Questo può essere appunto il quinto T inverso. Qui può essersi chiuso questo mensile inverso. Io lo lascio ancora con questa nomenclatura perché tutte e due le ipotesi sono aperte. E, però, se chiude un mensile da questo massimo, con 5 giorni di discesa, con una sola candela verde in mezzo a altre 5 rosse, che cosa può stare partendo? Perché, se notate una cosa, ci sono alcune sincronie di massima tra asset, ok? E se ci possono essere movimenti forti da una parte, continuano a esserci determinate non correlazioni o si formeranno correlazioni? Quando tutto inizia a poter scendere, anche se non ci sono tracce su altre parti, ok? Qua il CL è l'unico che non c'entra veramente nulla. Volevo cercare il Nasdaq. Dov'è? Eccolo qua. Ma se iniziamo a scendere da qualche parte, perché il tempo finisce al massimo giovedì, qua. Tempo per poter salire? Al massimo, come detto nell'analisi, arriviamo a giovedì per una spike eventuale e bisogna ancora vedere se da qua siamo arrivati a 11 più 1 oppure abbiamo fatto 9, possiamo fare ancora 11, le altre due di salita. Ma dopo che finisce la salita, che cosa arriva solitamente? perché qui è maturo, qui anche, stessa identica cosa, anche qui quando siamo arrivati è l'inverso, lo guardiamo un attimo insieme. 9 barre, perfetto. Non so se avete notato, ma anche l'oro ha una determinata forma. Vediamo se ce l'ho. Andiamo a prenderci l'oro. C'è... Ricordo se... Ho fatto talmente tante analisi nel corso del tempo che... Gold. C'era il silver. Ok. In ogni caso, sì, eccolo qua. Questo era quello persino a 45 minuti, ma io lo voglio a un giorno. C'erano delle relazioni un tempo, ok? Poi sono arrivati gli HFT. E gli HFT che cosa hanno portato? Hanno portato allo spezzarsi di tante relazioni. Mediamente, quando l'oro crescevano, crescevano anche i mercati. Era considerato, ma forse ci farò un video, un bene rifugio. neanche quello è più un bene rifugio. Non siamo sui massimi assoluti, ma ci siamo avvicinati ai massimi. E però l'abbiamo fatto anche da tante altre parti. L'abbiamo fatto qui. L'abbiamo fatto qui. L'abbiamo fatto qui. Mi va bene anche qui? Sì, anche qui, dai. Sono tutti che solo per i grossi movimenti, non per tutto il resto, hanno relazioni che si slacciano e si allacciano, ok? Ma se grandi masse di denaro vengono tutte improntate in una certa direzione, Bitcoin farà lo stesso oppure no? Di tutto il resto, compreso l'oro. Forse ho introdotto un argomento un po' troppo grosso. Me ne rendo conto, però ve ne parlerò probabilmente più avanti. Teoricamente, dovrebbero esserci delle... Dovrebbero esserci delle relazioni opposte tra indici e Bitcoin. Se Bitcoin fosse, come l'hanno definito, come qualcuno impropriamente l'ha definito, perché non può essere definito un bene rifugio, se fosse stato definito, se fosse un bene rifugio, non potrebbe salire insieme ai mercati. Perché storicamente è stato il contrario. L'oro saliva quando i mercati scendevano, però adesso l'oro invece sale insieme ai mercati. Forse ho raccontato troppe cose tutte insieme, ma sono riflessioni che sto facendo per via di questo Nasdaq che ormai mi ha stregato. Ok. Direi che vi ho dato varie chiavi di lettura. Attenzione. Questa è un minimo importante, 26.536. Teniamocelo d'occhio, ok? Abbiamo la condizione sia per rimbalzare e confermare la partenza di un mensile inverso se si tornasse qui sopra, che di continuare a scendere o fermarci e fare altro. Per cui, se non si creeranno altri vincoli di sorta, ok, non opereremo su Bitcoin come di consueto e attenderemo di vedere se questo ciclo già neutro vuole continuare in realtà ancora a scendere dopo un rimbalzo per la partenza del settimo T-3 che però se supererà determinati massimi, ok, ci dirà se parte invece un nuovo settimanale. Buona serata a tutti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Arrivederci. Grazie.